Vi leggo un brano di Matilde Serao tratto dal suo romanzo Il ventre di Napoli. Quando una popolana napoletana non ha figli, essa non si addolora segretamente della sua sterilità. Non fa una cura mirabile per guarirne, come le sposine aristocratiche. Non alleva un cagnolino o una gattina o un pappagallo, come le sposette della borghesia. Una mattina di domenica ella si avvia con suo marito all'annunziata dove sono riunite le trovatelle e fra le bimbe e i bimbi, allora svezzati o grandicelli, ella ne sceglie uno con cui ha più simpatizzato e fatta la dichiarazione al governatore della pia opera, porta con sé trionfante la piccola figlia della Madonna. Questa creaturina non sua, ella l'ama come se l'avesse essa messa al mondo. Ella soffre di vederla soffrire, per malattia o per miseria, come se fossero viscere sue. Nella piccola umanità infantile napoletana i più battuti sono certamente i figli legittimi. Di battere una figlia della Madonna ognuno ha un certo ritegno. Una certa pietà gentilissima fa esclamare alla madre adottiva, poverella, un naggio core da avattere, è figlia della Madonna. Se questa creatura fiorisce in salute e in bellezza, la madre ne va gloriosa come di opera sua, cerca di mandarla a scuola o almeno da una sarta per imparare a cucire, poiché certamente per la sua bellezza la bimba è figlia di un principe, in nessun caso di miseria o infermità la madre riporta come potrebbe da figliola all'annunziata. E l'affezione scambievole è profonda come se realmente fosse filiare e a una certa età il ricordo dell'annunziata scompare e questa madre fittizia acquista realmente una figliola. Questo brano si trova a pagina 110 del mio romanzo Il mazzo di carte.